Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Prima di dare il via, Vladimir ricorda che, avendo superato la prova di selezione del leader, Alvina e Karina non potranno essere nominate in quanto immuni. Greta, invece, a causa de bacio di Giuda, ha già ricevuto un voto. Il primo ad effettuare la sua scelta è Stoppa il quale fa il nome di Arturi in quanto ritiene che abbiano due diversi modi di affrontare questa avventura. Siamo molto diversi. Anche la scelta di Samuel ricade sul modello. Con lui ho legato molto meno. È il turno di Edoardo. Lo chef decide di nominare Greta. Quest'ultima, invece, fa il nome di Artur. Crede che sia una persona scorretta. Artur ricambia la nomination a Greta, mentre Matilde fa il nome di Linda. Magari questa nomination le darà la grinta per farsi conoscere meglio e esclama. Dario sceglie di mandare al televoto Stoppa. Lo temo e lo rispetto, dice, motivando la sua scelta. Avendo ricevuto tante nomination, Cady decide di restituire il voto ad Aras. Anche la scelta di Linda ricade sull'attore. Mi sarebbe piaciuto parlare di più con lui. Aras manda in nomination Artur. Crede che nel corso di questi ultimi giorni lui si sia dato meno da fare. Anche la leader Carina è giunto il momento di effettuare la sua scelta. La naufraga decide di penalizzare Aras. Artur, Greta e Aras sono i tre naufraghi in nomination. Chi di loro riuscirà a salvarsi? Tu chi vorresti eliminare? Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.